Subirà un incremento del 5% la Tari, la tassa sui rifiuti per l'anno 2017, e quanto previsto dal piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e del piano tariffario Tari, approvati ieri pomeriggio in consiglio comunale. In realtà, a causa di un incremento di una serie di costi di conferimento, si paventava un aumento di circa 8 punti percentuali, ma come spiegato in aula dall'assessore alle finanze Adolfo Salsano, grazie ad una serie di tagli di spese superflue, si è riuscito a contenere l'aumento delle bollette per i cittadini. Restano confermati invece gli incentivi per le utenze neondomestiche e per coloro che conferiscono i rifiuti differenziati all'isola ecologica. Sono piccoli lievi aumenti che scaturiscono purtroppo dai risultati delle ultime due gare effettuate, sia per il conferimento del secco indifferenziato che per quanto riguarda il conferimento dell'umido. I costi sono lievitati da 121 a 130 euro a tonnellata per quanto riguarda l'indifferenziato e da 129 a 155 per quanto riguarda l'umido. Quindi in effetti diciamo che è un piccolo aumento fisiologico. Mettiamo pure che in effetti noi alcuni materiali li portavamo al sito di compostaggio di Salerno gratuitamente, da quando poi purtroppo questo non è stato più possibile, è chiaro che abbiamo dovuto pagare questo conferimento e si tratta di 155 euro a tonnellato. Poi c'è un'ultima cosa che mentre l'anno scorso noi abbiamo utilizzato gli accertamenti soltanto per quanto riguarda quelle somme sul recupero evaso, quest'anno siamo costretti con una nuova disposizione di legge a tenere presente soltanto il realmente riscosso. Quindi tra accertamenti uno poteva allargarsi in più nella fase previsionale, invece adesso è un numero rigido quello del riscosso. Tutto ciò porta a un aumento intorno al 7-8% del costo, però noi siamo intervenuti sia nel diminuire dei servizi che erano secondo me superfoli, e quindi c'è stato un abbattimento dei costi, e sia per quanto riguarda la bollettazione anche delle previsioni un poco più veritieri rispetto a quelle degli anni precedenti. Pesanti critiche sono state avanzate dai consiglieri di minoranza, in particolar modo dall'ex sindaco Marco Galdi. Siamo contrari perché rappresenta il banco di prova del fallimento di questa amministrazione rispetto alla politica dei rifiuti urbani. Noi lo scorso anno abbiamo sollecitato più volte il passaggio di cantiere dal Consorzio di Bacino alla Metellia, che avrebbe determinato dei risultati importanti anche sul piano economico e finanziario e quindi sulle tariffe tari. Perché questo passaggio di cantiere è avvenuto a marzo 2017? I 230.000 euro che si immaginava di poter risparmiare lo scorso anno ricadranno su queste bollette che pagheremo nel 2017. Allora, dicevo, in sostanza i cittadini l'anno scorso sono stati ingannati quando si è parlato di una riduzione delle tasse per uno presunto risparmio di 230.000 euro, che non c'è stato, e che ricadrà sulle bollette di quest'anno. Io invito il sindaco Servalli e l'amministrazione Comunale, se si vuole guardare nello specchio, di fare un uguale manifesto in cui si chiede scusa ai cittadini perché si è detto una bugia lo scorso anno e quest'anno si pagherà quello e quell'altro.